Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! Fanno un pochino pensare anche a un gioco nato originariamente per mobile, è un gioco che costa 15€ su Steam mentre al momento in cui sto registrando troviamo il vecchio capitolo Vampire a 1,99€ anziché 9,99€. Non c'è granché a livello di scelta del personaggio, ciò che ci fa capire che non si punterà tantissimo sull'immedesimarsi o sul creare un alter ego. Io adesso finisco la creazione del mio personaggio molto velocemente, lo facciamo così, gli diamo il nome Indie e iniziamo perché questo gioco ha una particolarità, un combattimento a turno che può ricordare dei giochi più alla Might and Magic. Comunque ve lo faccio vedere. Abbiamo diversi tipi di inizio e di partita che ci danno relativi bonus tra cui la destrezza, il carisma, la forza, in questo caso io faccio l'accademico quindi come studioso e ho un'intelligenza più 5, posso scegliere un livello di difficoltà a scelta e iniziamo. Inizieremo subito con una situazione già predefinita, i ladri sono ladri, il sangue cadrà e il lare tirano ci governa tutti. Le madri combattono, i padri sono coraggiosi, sacrificati per quelli da salvare, o sacrificati per quelli da salvare, non so. E poi i bambini muoiono di fame in un dolore mortale, i destini si dipanano mentre i cadaveri sono appesi. Siamo mostri come strisciamo in basso. Tra l'altro il gioco è disponibile in due lingue, inglese e italiano, non so dirvi se, anche il vecchio capitolo vabbè era in italiano e inglese, ma non so dirvi se lo sviluppatore sia italiano, potrebbe anche essere. Vabbè, questi siamo noi, perché è sempre in ritardo. Vedete, noi abbiamo la possibilità che è più comoda col VASD di muoverci, oppure tenendo premuto il tasto sinistro del mouse compare questa freccettina che fa quasi pensare a un touch. Qua abbiamo una cassa, quindi ci avviciniamo e facciamo spazio per aprire, troviamo una spada arrugginita. Possiamo entrare anche all'interno, forse. No, non mi fa entrare. Sì, perché adesso qua inizia subito la storia. Infatti arriva XI. Prendi questa lettera subito, mi stanno seguendo. Ti faccio notare che accettare messaggi non ho provati illegale. Oppure reagisco con del panico. No, io dico così. Non posso accettarla direttamente da te, non è passata per l'Avence Point, non è stata controllata a dovere. Quindi qui iniziamo a capire che c'è una sorta di controllo nella lore di gioco, la posta. È un discorso abbastanza delicato. Lei mi mette mano alla lettera e finalmente è arrivato il momento. Dovremmo dire l'altro sorello. In realtà no, non facciamo saltare la copertura di Mellia. Dobbiamo lasciare la città adesso. Saremo circondati da un momento all'altro. Abbiamo bisogno di Waymore. È il miglior combattente di tutti. Andiamo. E quindi qui inizia la nostra avventura. Questo è un gioco di ruolo. Infatti lei ci segue. Abbiamo la mappa di gioco. E dobbiamo andare in un punto preciso. Qui c'è una guardia. E qua siamo davanti. Questo l'ho già visto. Avremo modo di scegliere che cosa fare. Per ordine di re Elric consegnerà quella lettera. Cioè ci ha visto chiaramente. Abbiamo in mano una busta. Insomma non possiamo leggere. Non c'è possibilità. Quella lettera è stata inviata da un noto rivoluzionario. E stati partecipando al favoreggiamento del terrorismo. A questo punto io dovrei poter scegliere uno di questi. Avessi avuto la classe Bruto. Avrei potuto fare questo. Se non avessi fatto né l'accademico né il Bruto avremmo combattuto. In questo caso io faccio il lineaggio accademico. E quindi lo manipolo a parole. Ma il fatto che la situazione è più complessa di quanto pensi. Le parole lunghe e intelligenti escono dalla tua bocca. Più velocemente di quanto con Kwonk riesca a stare al passo. Ah giusto sì sì. Io credo che questo significhi che sei libero di andare allora. Credo. Ok. Ci lascia andare e andiamo avanti. Io preparerei le armi. Ok. Abbiamo una spada arrugginita. Quindi vedete qua. Possiamo andare a cliccare col destro ed equipaggiarla. Poi avremo tutto l'equipaggiamento da poter guardare. Guardate che questo è l'equipaggiamento diviso anche per sezioni dei vari personaggi. Vedete che hanno le loro cose. Qua abbiamo un pannello di creazione che sembra molto semplice. Che ci permette di smantellare, potenziare o creare da zero un oggetto. Una sorta di crafting. E questo è il classico diario con le missioni da fare. Qua abbiamo il primo combattimento. Qui c'è Waymoor che dovremmo recuperare in quanto eccellente combattente. Allora lui ci dice se ti arrivati giusto in tempo una delle guardie ci guarda e ci dice se con questo criminale estrai l'arma. Ma avessimo un carisma a 60. Ma il party totale è a solo 10. Quindi qui ci sta mettendo davanti a prima una scelta che potevamo compiere. Qui una scelta infattibile. E quindi dobbiamo combattere. È un GDR molto base. Non aspettatevi un Baldur's Gate però. Ok. In questo caso abbiamo due risorse. Chiamiamo questo... La vita insomma. Questa rossa. E questa blu che è l'abilità da usare. In questo caso guadagniamo 25. Se facciamo... Ma in questo caso io faccio l'attacco singolo. L'attacco. Ora possiamo aprire il probab delle abilità cliccando col destro. Quindi praticamente qui ci spiega che cosa stiamo andando a fare. Vedete che in questo caso qui guadagniamo. Qua spendiamo. Quindi adesso noi siamo nei panni di questo. Che siamo noi credo. Siamo noi perché sono... Anche se no non siamo noi perché questo ha la barba. Allora praticamente possiamo fare pugnalata alle spalle. Praticamente spendiamo 29 e lui è 65. Spendiamo 29. E gli fa un bel danno e perde questi punti qua. Ora tocca alla fine lei. E gli facciamo fare un attacco singolo. In questo caso vedete che non ci fa scegliere quale nemico attaccare. Semplicemente perché c'è un nemico solo. Poi dopo vedremo. Possiamo anche scegliere un nemico. Dato che agiamo in due fazioni diverse. Noi e poi i nemici. Possiamo scegliere quale nemico far attaccare. Abbiamo battuto però vedete che lo scontro era uno di due. Infatti adesso abbiamo un altro scontro con due guardie. Ora lui non può solo attaccare singolarmente. Scegliendo uno dei due attacca questo. Ok. Tocca a noi e potremmo provare a vedere la... No abbiamo rigenerato un po' quindi facciamo noi questo tizio qua. Doppio attacco. Spendiamo ben 40 punti. In questo caso su entrambi. No. Sempre su questo. Ok. Lo finiamo. E questo invece è preparazione. Forse una volta che il nemico bersagliato subisce danni il nemico subisce un ulteriore 150% di... Ok. Gli lo facciamo usare. Gli diamo questo debuff. E gli facciamo danno adesso. Quindi io posso temporiggiare. Allora. Doppio attacco così gli fa un botto di danno. Basta solo un colpo per correre fine anche a quest'altro nemico. I nemici hanno anche resistenza a vari tipi di danno. Perché le guardie ti inseguivano? Le ho attaccate perché mi hanno rubato qualcosa. E poi ci chiede perché stavate scappando? Cos'hanno rubato? Anche le guardie ci inseguono. È loro che gli ho rubato. Perché le guardie vi vogliono? Violetta ha mandato la posta. Fa un culo ma davvero? Sappiamo dove si trova? La lettera lo dice? No. Ma c'è letto dove andare? Allora. Dobbiamo lasciare la città adesso. Vista la gravità della crisi dei mostri prendiamo Algar. Ci servirà la sua conoscenza delle cose magiche. Ma ci sono già io. Vabbè. Insomma. Qui si inizia. Io sto continuando ad usare il mouse. Ma in realtà sarebbe più comodo usare il Vazd. Ok. Qua c'è Barney. Non credo che questo sia... Ok. 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 Weymour bacia Algar sulla guancia. Mi spiace tanto. Non sta succedendo un casino. Dobbiamo fuggire dalla città. Algar appoggia delicatamente la mano sul braccio di Weymour. E lo guarda negli occhi. Ok. Certo. Qualsiasi cosa per te. Vi guarda. Voi tre non sembrate in forma. Qualunque sia il viaggio che state per intraprendere. Sento che avete bisogno di me. Anche se c'è la possibilità che ci separiamo. Lascia che ti insegni a creare un oggetto curativo. No. Non ho niente. Vuole insegnarci una porzione di cura probabilmente. Raccogli sempre tutto ciò che vedi. Non si sa mai quando potrebbe servire. Per fortuna ho tutto ciò che ci serve. Il destino ha consegnato. Ok. Lasciate che vi mostri come si fa. Clicca sul crafting. Seleziona. Ok. E prepara. La carne gourmet. C'è fatto carne, vino, rosso e fungo. Ok. E dovremmo averla nell'inventario. Apre l'inventario. Premi I. Che mi è più comodo. Premo questa. Tascina o premi Consuma per Consuma. Ok. Vuole consumare carne gourmet? Sì. E abbiamo curato la vita al massimo. Sì. Non stiamo vedendo assolutamente nulla di assolutamente nuovo. Ma vediamo. Abbiamo questi tipi di ricette. Le lisier d'amore. Carne gourmet. e pasticce di carne. Ok. Siamo. Dobbiamo andare. Di qua. Dice di cliccare su tutto quello che troviamo in giro. Ma in realtà. Che succede qua? Valdor. Ed è per questo che Elerick non ha avuto scelta che annunciare una chiusura formale. Le porte di Galdos sono sigillate. Sono molto dispiaciuto. Se avessi avuto il potere di certo non avrei fatto una scelta del genere. Sono molto molto dispiaciuto. Ma in questo momento nessuno può lasciare entrare in città. Dovete lasciarci ripassare per favore. Sono loro i vagabondi di cui vi parlavo. Mi hanno ingannato con le loro lunghe parole. Ve l'ho incontrato con un antimonarchico. Imploro. Mi vendo così, inubilmente. Dobbiamo andarcene. Non torneremo. Ce ne andremo. Apprezzo la vostra frustrazione. Lasciatemi parlare con il lei a nome vostro. C'è la possibilità di convincerlo a... No. Non parlatemi in questo modo. Scusami, sono... Il tuo su... No. Allora, lei guarda il suo prendere. Tu resta con me e guarda e impara. Guarda. Tu falli a pezzi. Ok, parte un combat. Siamo in quattro. Adesso abbiamo anche il mago. Anch'io dovrei essere tecnicamente forse un mago. O almeno dovrei diventarlo. Questo è un botto di vita. Quindi io direi di fargli fare subito la preparazione. Così che... Questo vi facciamo fare un doppio attacco. Ah no, qua? Ok. Ci ha dato questo pannello qua. No. Fai il doppio attacco. E abbiamo tolto un botto di danno. Era solo il prossimo attacco. Quindi noi facciamo un attacco singolo. Che però è resistente. Forte contro il tagliente. Debole contro il perforante. Quindi dovremmo fargli un danno tipo da... Eh non lo so. Questa è rica riscita che cura. Guarda un bersaglio. Furto vitale. Non ci serve ancora perché non abbiamo vita. Facciamo un attacco singolo. Vediamo se... Ok. Una palla di fuoco. Lì abbiamo già tolto comunque. Lui fa solo un attacco. Barra del limit break. Le tue azioni riempiono la barra del limit break. Questa qua sotto. Se la barra è piena. Il... Partito del giocatore ottiene un turno extra. E barra di punte ferita. Piene. Ok. L'abbiamo fatto. Quindi possiamo usarlo. Abbiamo ricaricato tutto. Abbiamo un turno extra. Facciamo di nuovo preparazione. Così che... Gli facciamo palla di fuoco. E la uccidiamo. Ok. Questa è stata organizzata bene. Vedete. A me piace anche quando i combattimenti sono... Con tutte le resistenze e tutto. Ma non eccessivamente pieni di parametri da controllare. Cioè bene o male. Sapevo che raddoppiava. O quell'incantesimo. Me la tengo buona come meccanica. Non devo il buff su quello. Che poi usa il buff con l'altro. Che si concatena. È bello anche quello. Piace anche quello. Però dipende un po' dalla voglia. Cioè se una voglia di rilassarsi può essere interessante questa cosa. Allora. Lo sfogo. Facciamo preparazione. Facciamo questo 10.000 punti. Secondo me questo qui ce le deve suonare comunque. Quindi vabbè. Facciamo preparazione. Col maghetto gli lanciamo ancora la palla di fuoco che non può perché non ha abbastanza punti. Quindi gli facciamo... No. Mannaggia. Eh no. Facciamogli l'attacco doppio. 1.5 per 28. Pugnalata. Sì. Non gli abbiamo tolto niente. Non gli abbiamo... Eh ci spiana questo. Sicuramente. Il maghetto qua può attendere. Così ricariche punti. Ne ho 70. Eh si fanno tanto danno questi. Infatti. Avevo capito subito che doveva finire così. Per favore bisogna il tuo aiuto. Meglia. Ah Meglia è la sorella. E lavora con questi qua. Colpo di scena. E in forzi. Cioè aveva 10.000 punti vita però un colpo di... Va bene. Allora li abbiamo persi. Solo ci aggiungeranno. Dobbiamo continuare ad andare. Ok stiamo scappando. Uscire dalla città. Andiamo a trovare Redgrave. Un'idea. Ok andiamo. Usciamo dalla Big City. Fuga da Galdos. Dai continuiamo a uscire. Spendere i punti di statistica. Sì perché siamo livellati. Ok. Quindi ci ho. Punti di statistica. Possiamo spenderli. Ok. E poi abbiamo anche. Ecco questo non ve l'ho fatto vedere. Peccato perché. Era. Ecco. Cioè. Queste sono le abilità da prendere. Per ogni personaggio. E prima lo potevamo fare anche sugli altri. Ma non avevamo punti da dare. Quindi io do punti intelligenza. Perché io vorrei farlo mago. Quindi. Confermo. Le metto a cazzo completamente. E lei è una guerriera. Quindi gli do. Gli do punti forza. Tutti. Poi. Vabbè. Come ho detto. Le sto mettendo a cazzo. Poi. Lui. Guarigione. Peste. Sfogo. Vedete che poi può diventare. Varie tipi di classi. Artificiere. Ladro. Voodooista. Piromante. Necromante. Mi piace molto sta cosa. Quindi devo andare in questa direzione. Sblocco questo. Quanti punti ho ancora uno. Sblocco questo. E poi vado al frutto vitale. Poi avrò le armi oscure. Necroguarigione. Magari. A avere anche delle. Delle abilità. Mentre invece. Lei dovrebbe fare un'avanguardia. Un guerriero. Qualcosa. Gli diamo provocazione. E poi colpi duri. Che potrebbe essere interessante. Ok. Continuiamo. Continuiamo la fuga. Esattamente che noi ci vediamo. Mellia. Come va? Non abbiamo tempo. Sei ancora incaricata di buttare fuori i cadaveri dalle mura della città. Sì. Per farla breve. Abbiamo bisogno di te. Per stanarci. Stanarci. Un po' tradotto un po' così. O no. Siete solo nei guai. Io non farò nulla che possa lasciare un segno in su di me. Ma se paghi. Dammi le armi migliori. La tua armatura. Ogni pezzo d'oro. Non voglio che tu sia indifeso da fuori. Oh vabbè. Lasciaci tenere più di questo. Vuole prendersi tutto. Lui ci lascia andare. No. Imploro. Mi abbasso a livelli indicibili. No. Vabbè. Continua a dirmi no. Degradate a te stesso chiedendole l'emosina. Cioè ho vinto che un achievement steam probabilmente aveva raggiunto dei livelli assurdi. Ok siamo arrivati qua sotto. Bellina questa ambientazione. Avrei dovuto tradire il pennello per prima. Ho trattenuto i pugni ma non volevo far saltare la mia copertura. Mamma finalmente mi ha dato una lettera. Togliamo la lettera. Dalla tasca. È arrivato il momento. Le mie indagini per i devoti del culto di lui mi hanno portato la prima metà di un'antica profezia. Si fa interessante. Non è colpa tua. Va bene. Li ha uccisi. Avrei potuto fermarla. Va bene. La corona sta cercando di vendere un mucchio di roba a un altro continente. Beni fondamentali. Questo paralizzerà il regno. C'è una corruzione a corte. Molte altre persone soffriranno. Morire come vuoi morire. Deve morire. Penepo. L'opera deve morire. Dile gentilmente. Ok. Gli dico gentilmente che dobbiamo concentrarci sulle istruzioni e non deviare. Potevo dirglielo anche in modo più rude. Un po' più maleducato. Ti sta a parlare tra le mani. Hai ragione. Scritta la lettera. Volwin. Quello che abbiamo. Andiamo avanti. Ok. Carver. Perfetto. Allora. Andiamo avanti. E questo è diventato un po' Scorn. Che ambientazione occupa qua. Ci hanno scaricato fuori dalla città. Credo. Perché sembra quasi una grotta in realtà. No. Abbiamo Alson. Walson. Cosa possiamo fare con Alson? Che probabilmente. Ah ok. Ci cura. Ma al momento non ne abbiamo bisogno. Abbiamo un oggettino qui. Libro dello scriptorium. Raccolgo. Vuoi vedere cos'è? Ok. Ok. Ognuno è bella finestra sul passato. Ok. Non abbiamo niente da... Però c'è un forziere. Fascia per le gambe senza volto. Ok. Vediamo se ho già... Se cambia soprattutto l'estetica del personaggio io ho equipaggio. No. Ma se io mi tolgo i pantaloni... Ah si cambia. Questo si cambia. Non so. Ah. Perché va sui piedi questo. Però non è niente di molto diverso da quello che abbiamo già. Non c'è modo... Ho questo qui. Un dialogo... Perché piangi sempre? Mi spiace sentirlo. Vabbè qua è un dialogo comunque da leggere. Sono le mie scuse. Andate via. Va bene. Questa è una quest. Zeli Ork. E' meglio che tu abbia una scusa fantastica per farmi perdere tempo. O da fare. Qualche lavoro che potremmo assumere tu. Problemi con i topi. Vedo queste parti. Mi salveresti davvero la pelle. Ehm. Va bene. Faremo il lavoro. Accetto senza condizioni. Mi dovrebbe dire dove andare. Vediamo un po'. Jay. Infestazione dei ratti. Tracciata. Qua. Infezione dei ratti. Infezione... Vabbè quello che è. Qua dietro è una zona gialla. Ok. Da fa... Eh... Non si passa di qua. Credo si passi da qua sotto. E' completamente facoltativa questa quest. Quindi lascia comunque in quella discreta libertà. C'è un forziere con un'arma che io potrei dare a lei. Lei ha quest'arma qui. Lei ha quest'arma qui. E fa danno 25. Quest'arma qui fa 28. Equipaggio primario. Sì dai. E vediamo i topi. Solo che non si capisce dove. C'è un altro forziere. C'è un altro forziere. C'è un altro forziere. Gemma. Pieno di forziere. Sì e sono queste cose di questi forzieri che lo fanno più sembrare un gioco mobile. Comunque abbiamo i topi e possiamo provare con lei. Vediamo subito l'attacco singolo con il 28 di danno della... Anche perché gli altri sono tutti morti. Quindi attacco singolo. Anch'io adesso attacco. E io ho solo cure al momento. Quindi non vorrei diventare un eclomante ma mi ci vorrà del tempo. Allora. Provocazione cosa fa? Ah ok. Praticamente prendono l'aggro. Uno è andato. Possiamo toccare l'altro. Ormai qui è quando abbiamo pochi personaggi. Poche abilità. Ma è molto bello perché l'evoluzione delle abilità va a cambiare sostanzialmente anche il combattimento. E le tattiche. Quindi non è così banale. Cioè non pensiate che il porting sia un porting mobile. O comunque il fatto che sembri un mobile game sia sempre un male. Perché quando il gioco è fatto bene. Il gioco è leggerissimo a livello grafico. E scorrere via bene. Quindi non è assolutamente male. Eliminano macchie dei ratti. Ok abbiamo eliminato un pezzo. Poi si va avanti. Qua escono in modo del tutto casuale. Ma direi che al momento sarebbe il caso di salvare il gioco. E vi chiedo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo titolo. Che comunque avevo richiesto allo sviluppatore. È stato veramente così gentile da mandarmelo. Interessante come era interessante il capitolo vecchio sui vampiri. Che tra l'altro di cui avevo parlato i tempi. E qualcuno di voi mi aveva mostrato un grande interesse per il gioco. Lo aveva anche giocato e spolpato. Se non ricordo male. Spero possa fare lo stesso anche con questo titolo. Attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Con questo vi saluto. Vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video game play. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.